Se dovesse tornare il terreno alla difesa a 4, come vedi questa situazione tattica che avete già provato a inizio stagione? Vi sentite un po' meno protetti oppure prendere quel rischio in più ci può stare? No, penso che sia uguale, dipende dall'atteggiamento che ha la squadra, perché comunque se si lavora bene di squadra la difesa a 3 o 4 cambia poco, l'importante è che l'atteggiamento sia quello propositivo quando si ha la palla però quando non si ha la palla si difenda tutti insieme, quindi dopo anche la difesa soffrirà di meno. Se si dovesse giocare la gara del 20 saranno comunque passati più di 30 giorni, oltre un mese senza calcio giocato come si ripresenterà il terreno e quanto è stato difficile superare questa lunghissima pausa? Non è facile non giocare, abbiamo fatto una vittoria esaltante, l'ultima, quindi sarebbe stato bello proseguire però qualche incognita è normale che te la porti dietro perché comunque un mese senza giocare non è che hai giocato a settimana prima, quindi magari le certezze che hai fai un po' più fatica però ci prepariamo bene e basta.